Una caloria è sempre e comunque una caloria? La risposta è no, anche se sulla carta potrebbe sembrare un sì. Per spiegarti questo concetto voglio prendere riferimento un po' quell'indovinello se pesa di più un chilo di ferro o un chilo di grasso. Ovviamente il peso è esattamente il medesimo, ma come volume ad esempio di riempimento c'è un'enorme differenza. Per un chilo di ferro basta sicuramente qualcosa di molto piccolo, per un chilo di grasso il volume che occupa è maggiore. Quindi paradossalmente non è esattamente la stessa cosa. Sullo stesso concetto anche la caloria non è sempre una caloria, per quanto la scienza in termini puramente assoluti ci dica ovviamente il contrario. Allora perché questo ragionamento? Perché una caloria, 100 calorie, 1000 calorie, a seconda da che tipo di macronutriente derivano, hanno un impatto sul tuo fisico completamente diverso. Mi spiego meglio, 100 calorie da carboidrati non hanno lo stesso impatto di 100 calorie proveniente ad esempio dal proteine. E quindi quando si tratta di ricomposizione corporea è vero che le calorie contano, è vero che il deficit calorico è ciò che trasforma da un punto di vista di dimagrimento il corpo. Però è anche vera una cosa, che a seconda di come queste calorie le componiamo anche in percentuali rispetto ai macronutrienti, quindi carboidrati, proteine, grassi eccetera, cambia tutto. E questa ripartizione deve essere fatta sulla base del tipo di allenamento che andrei a sostenere. Fare aerobica non è la stessa cosa che fare aerobica con i pesi. Fare solo pesi non è la stessa cosa che fare solo le altre due. Fare i pesi con un determinato tempo di recupero non è la stessa cosa che fare i pesi con un altro tempo di recupero. La logica che c'è dietro all'allenamento e alla nutrizione è complessa se non la sappiamo davvero analizzare nel dettaglio. E quindi molto spesso io vedo delle progettazioni che vengono consegnate ai ragazzi o alle ragazze, che non c'è veramente una logica. Allenamenti che hanno un significato, una direzione ben precisa e nutrizione fatti da chi sa chi non lo so, o anche se lo so ovviamente non lo dico, ma che hanno una logica completamente diversa. È come se nello stesso momento tu dicessi al tuo fisico oggi vai a destra e contemporaneamente vai a sinistra. Dopo un pochino, e quindi dopo le prime settimane o mesi iniziali, il corpo ti manda a fanculo, come si dice, e si ferma esattamente a quel punto. Tripla System è nato per questo, analizzare la tua posizione in maniera matematica o scientifica e trevarne la soluzione. Scrivini.